Buongiorno, sono qui per presentare Catamelos, il format musicale proposto della libreria Il Catalogo, che si trova a Pesaro in via Castelfidardo 60. Catamelos, melodie in libreria, è una serie di incontri musicali vissuti all'interno della libreria e trasmessi poi online. Il titolo prende gioco da Melos e Logos. Catamelos trasforma il Catalogos in un luogo di musica dove lo spazio della libreria si presta a diventare una sala prove per artisti che fanno musica e che ultimamente fanno e condividono la loro musica prevalentemente dentro e da dietro lo schermo. In Catamelos i musicisti ospiti hanno un piccolo pubblico dal vivo, Alessandra e Giovanni, che sono i librai, io, Tamar, che faccio le riprese, Mattias, che fotografa e qualche cliente che passa, si mette sulle scale e ascolta un po'. E poi, solo dopo, tutto il resto degli occhi, delle orecchie che siete voi, spettatori online. Catamelos ha un precedente nella storia della libreria, in quanto l'anno scorso, qui dentro, abbiamo girato una serie di interviste incentrate sulla quarantena, che parlavano del vissuto durante il lockdown. Si intitola Quarantene non a caso ed è fruibile su YouTube. La differenza, oltre ad essere legata al componente musicale, è che in Catamelos non c'è la mano che interviene dopo, che taglia e che decide il ritmo. Non c'è il montaggio, sono quasi come le dirette. Come è nata l'idea? Dal voler darsi da fare per creare qualcosa di coerente con il luogo e con la gente del luogo. La libreria al catalogo somiglia a una ragnatela e Alessandra e a Giovanni piace intrappolare chi ci passa, ma per trattenere le persone un po' di più ci vuole un'ingegneria di pretesti adeguati. Catamelos è un pretesto per raccontarsi e per fare raccontare. Gli animali fanno riferimento ai loro istinti, noi facciamo riferimento ai racconti. Ogni ospite, ogni puntata ospita un discorso musicale, è un solo, un duo, un trio, che viene qua, canta, suona e parla. Catamelos ha adottato la mela come elemento grafico e anche come merenda, noi mangiamo il melaccio alla fine di ogni incontro e voi intanto seguiteci ogni qualvolta che vedete una mela. Io sono Tamara Aidu, ideatrice del progetto e titolare di Q&A Projects, che vedete di fianco alla libreria e al catalogo, nelle produzioni che sono parallele al mestiere del libraio. Grazie. Grazie.